Benvenuti a questo nuovo video, a questo nuovo argomento riguardante la realizzazione di un bicomando manuale di sicurezza. In questo video vedremo come realizzarlo dal punto di vista pneumatico di che servono e quali sono alcune regole che dobbiamo rispettare per realizzare il nostro impianto di sicurezza. Qui nell'immagine potete vedere intanto una macchina qualsiasi, questa è una saldatrice, dove il comando di sicurezza, vedete, i due pulsanti sono distanti. Quale sono le regole da rispettare? Le principali le ho scritte su questo riquadro. I pulsanti devono essere a distanza di sicurezza ovviamente dalla macchina. Il comando deve essere ad azione mantenuta, bisogna tenerli continuamente premuti e quindi richiede l'azionamento contemporaneo dei due comandi manuali. A rilascio di uno solo dei due pulsanti, la macchina si deve fermare, in modo da evitare che le mani vadano sotto l'impianto, in un punto dove possono esserci uno schiacciamento, un taglio, un ferimento, insomma. L'azionamento dei due comandi manuali può essere anche temporizzato per maggiore sicurezza, in modo tale che la pressione sul primo e la pressione del secondo pulsante non superi un mezzo secondo. Se superi il mezzo secondo, la macchina non si attiva. Il ritardo non ci sia, quindi, un ritardo all'azionamento dell'uno o dell'altro. Avendo introdotto l'argomento con queste informazioni teoriche, che andiamo a vedere adesso come realizzarlo con un cilindro a doppio effetto. Quindi prendiamo un cilindro a doppio effetto, ci serve una valvola di distribuzione, che viene sempre associata ad una valvola 5-2, eccola qui, e viene sempre associata ad un cilindro a doppio effetto, fanno sempre coppia. Ecco, come sappiamo, nella valvola di distribuzione può avere due configurazioni, la valvola è bistabile, quindi quando arriva la pressione o da un punto o dall'altro punto, la valvola rimane configurata nella disposizione, così come da disegno, fino a quando un intervente interviene il segnale opposto. Mi serve un punto di pressione, che troviamo nel nostro menu, e ovviamente colleghiamo le uscite della valvola di distribuzione, uno in modo che spinga il cilindro e il pistone indietro, e uno che lo spinga in avanti. Il 3 e il 5 nella valvola indicano gli scarichi. Andiamo a mettere anche gli scarichi. E così l'abbiamo realizzato. Cosa ci serve adesso? Ovviamente ci servono i nostri due pulsanti. I pulsanti sono delle valvole 3 e 2 monostabili, quindi non restano nella posizione che assumono dopo il comando, ma c'è un ritorno automatico al motivo del meccanismo a molla, che andiamo a vedere, intanto che parlo non guardo il nostro menu. Eccolo qua. Vado ad eliminare il pilotaggio. Non succede niente, anche se lo lasciassi, ma... Ma così vediamo anche come... No, questo devo lasciarlo stare. Il pilotaggio così vediamo anche un po' come togliere alcuni componenti. Adesso questi due devo collegarli in end, in modo tale che la pressione dell'uno e dell'altro vadano a comandare lo spostamento in avanti. Posso mettere una valvola end, cioè una valvola a due pressioni, ma l'end lo posso anche realizzare semplicemente collegandoli in serie. Così risparmio anche una valvola. Prendo il nostro punto di pressione, l'uscita della prima valvola la porto alla seconda valvola, così ovviamente ho realizzato il mio collegamento in end, perché se premo... Se premo, scusate, ho preso dei pifine corsa e non dei pulsanti, ma non tutto il male vengo per nuoscere, vediamo che tolgo la parte meccanica e metto quella manuale, ecco, metto il mio pulsante, ok? Faccio anche sotto, tolgo la parte meccanica e scelgo il mio azionamento manuale. Adesso è fatto. Quindi, ritornando al nostro discorso, se premo questo pulsante, questo pulsante non può commutare la valvola perché non ha pressione, perché la pressione la riceve da questo pulsante. Se premo solo questo e non premo quest'altro, ovviamente la linea di pressione non può andare alla valvola perché qua sono nella condizione della valvola chiusa. Quindi devo per forza premerli tutte e due. Come vedremo nel terzo esempio, vi do soglia premerli in un certo arco di tempo, altrimenti non funzionerebbe. Per quanto riguarda invece il rientro del cilindro, bisogna che riassuma questa posizione, la pressione la prendo, possiamo prenderla? No, possiamo, dobbiamo prenderla in questo caso direttamente dalla camera posteriore del cilindro, perché quando manca la pressione, quando manca la pressione, perché non ho premuto contemporaneamente questi due, ne ho rilasciato uno, ovviamente il pistone comincia a rientrare e la pressione in uscita va a commutarmi la valvola che ritorna in questa posizione. Non ci resta che andare a testare il pulsante. Premo su Start, mi dice che ci sono le linee sovrapposte, eccolo qua perché una linea passa sopra le altre, ma non è un problema, dico OK. Mi dice che ci sono stati degli avvisi e se voglio che la simulazione vada avanti lo stesso comunque, va bene. Devo premerli, devo premerli tutti e due per avere il mio bicomando manuale di sicurezza. Adesso possiamo vedere in che modo invece possiamo realizzarlo se invece del cilindro, del cilindro a doppio effetto abbia un cilindro a semplice effetto, ha un semplice connettore per lo spostamento del cilindro, in avanti, mentre per tornare indietro c'è una molla. Ovviamente la molla costringe il cilindro a spostarsi indietro quando mancherà la pressione sulla sua connessione. Invece di usare una valvola 5.2, perché tanto il movimento di rientro dipenderà dalla molla, posso usare direttamente i miei due pulsanti, quindi non faccio altro che fare CTRL-C e CTRL-D, li porto sotto il mio cilindro, vado a collegarlo, rilancio il tutto, ovviamente i messaggi sono sempre gli stessi, e andiamo a vedere. Vedete? se tolgo uno dei due, premo questo, non succede niente, premo l'altro, non succede niente, deve essere una condizione logica end, questo, end, l'altro. Benissimo. Abbiamo visto due possibilità con un cilindro semplice effetto, un cilindro a doppio effetto, adesso vorrei farvi vedere, mostrare la realizzazione con la considerazione del timer. Allora faccio così, sposto questi due schemini in modo da avere più spazio, e vado a prendere il cilindro a doppio effetto, posso prendere anche uno di quelli già pronti, CTRL-C, CTRL-V, lo metto lì, prendo una valvola 5-2, prendo la valvola 5-2, CTRL-C, CTRL-V, la colleghiamo al nostro cilindro, l'uscita della valvola, l'uscita 2 della valvola su rientro, l'uscita 4 sulla spinta, vado a prendere ovviamente il mio punto di pressione per alimentare la valvola, la colleghiamo, adesso mi servono i due pulsanti, gli prendo questi qua, vado ad incollarli, e questa volta invece di lasciare questa situazione, questa condizione, questa realizzazione in end, vado a separarli, e li collego, lo sposto a questa, e uso lo stesso punto di pressione, la stessa fonte di pressione, e uso una valvola end, una valvola end, una valvola a due pressioni, che vado a trovare qua, two pressure valve, l'uscita della valvola a due pressioni, mi dovrà spingere, comandare la valvola di distribuzione, in modo che il cilindro, abbia un azionamento, i due pulsanti, sono collegati all'end, quindi è la stessa realizzazione di questo collegamento, in questo caso ho messo end, perché, adesso vedremo perché, perché entrambe, le valvole devono essere, devono fare, darmi il consenso al temporizzatore, e se uno viene premuto, con molto ritardo rispetto all'altro, deve invece andare, comandarmi il rientro del pistone, o impedirmi la partenza del pistone, quindi adesso mi servirà anche una valvola OR, una shuttle valve, una navetta, per questione di spazio, la tasto destro del mouse, rotate 270 gradi, eccola qua, la mettiamo così, anzi, facciamo qualche cosa, perché poi c'è troppe linee che passano sui comandi, vabbè che il messaggio me lo manderà lo stesso, però insomma, così non lo vediamo, non lo facciamo più leggibile, un end su un pulsante, un end, un ingresso su un pulsante, l'altro ingresso sull'altro pulsante, così ho realizzato questo o quell'altro, entrambi devono essere collegati ad un temporizzatore, a un timer, eccole qua, temporizzatore me lo dà direttamente come valvole, come un gruppo di valvole, ed ecco abbiamo, time delay, valvola normalmente chiusa, time delay, valvola normalmente aperta, ovviamente prendiamo il normalmente chiuso, ruotiamo anche questo, di 270 gradi, rotate, la valvola di pressione deve avere la sua, la sua pressione indipendente, che è questa qui, sempre l'uno, l'ingresso 1 è sempre quello della pressione, la mettiamo qua, e la portiamo qui, così con lo stesso punto di pressione abbiamo, abbiamo l'alimentazione a tre componenti, per quanto riguarda il 12, è l'ingresso del segnale che deve essere temporizzato, questo sarà il contatto che deve essere l'uscita, che deve essere portata, alla valvola di distribuzione 5.2, ma questo devo farlo, non solo attraverso questo punto, ma anche da un altro punto, quindi mi servirà un'altra valvola OR, che posso prendere direttamente, da quella che abbiamo già utilizzato nello schema, copia e incolla, la ruotiamo, perché mi serve ruotata, non è che serve meglio, piace di più così, ovviamente l'uscita dell'OR va collegata, alla valvola di distribuzione, in modo da far rientrare il pistone, e va comandata dal temporizzatore, oppure come abbiamo visto nel nostro primo schema, dall'uscita, dall'alimentazione, dal foro di uscita, dalla connessione di uscita del cilindro, adesso andiamo a simulare, per vedere cosa succede, in questo schermino, i messaggi sono sempre gli stessi, ormai ci siamo affezionati, vado a premere il primo pulsante, e vedete che il temporizzatore è già attivato, e non mi permette di, quindi devo andare a regolare il tempo, nel temporizzatore, li clicco sopra, e lo portiamo, lo portiamo verso il valore minimo, ecco, vedete che non posso comandarlo, perché è trascorso il tempo, riproviamo, devo essere velocissimo, ce l'ho fatta, prima che intervenisse il segnale opposto, ovviamente se tolgo uno dei due comandi, il cilindro rientra, bene, così abbiamo visto in che modo, funziona il bicomando manuale, di sicurezza, grazie per la visione di questo video, spero sia stato di vostro gradimento, e possa essere stato utile, se volete mettere un like, fate pure, non mi offendo, e arrivederci al prossimo video, grazie per la visione di questo video,